Penso che un sogno così non ritorni mai più Un saluto a tutti gli amici Vallesina TV, siamo qui all'Agriturismo Cadabò in compagnia di Rossano. Ciao Rossano. Ciao, ciao a tutti. Allora, come è nata l'idea di questo agriturismo? Come lo consideri? Allora, l'idea dell'Agriturismo Cadabò nasce un po' da lontano, nasce dall'esigenza di integrare il reddito dell'azienda agricola. Ormai da anni l'azienda agricola non produce più utile, quindi bisognava studiare una forma di integrazione alternativa che permetteva a chi era in campagna, a chi lavorava in campagna, di produrre il reddito e quindi di restare sul mercato e quindi di andare avanti e di avere quel ricambio generazionale che permetteva a chi ci viveva, a lui e la sua famiglia di vivere. Quindi diciamo che è una scelta abbastanza obbligata, quello di fare attività agrituristica per integrare il reddito. Quindi in questo tuo percorso di recupero ti sono state vicine le istituzioni, quindi il comune, la provincia, che cosa hanno fatto per aiutarti? Sì, allora io devo dire fin da subito che le istituzioni non è che sono state vicine o lontane, dico che sono fondamentali per un certo tipo di sviluppo che si vuole portare in un territorio, perché uno da solo non va da nessuna parte. Quindi l'intervento pubblico è fondamentale, l'importante è farlo ponderato con leggi giuste che va verso una certa direzione. E bisogna, io dico, remare tutti verso la stessa direzione. Quindi da parte della Regione Marche, perché poi è l'organo che può intervenire più da vicino per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, perché ha dei poteri sia per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale e così via. Io penso che la Regione Marche finora ha fatto un buon lavoro, sicuramente si poteva fare ancora di più, si può fare di più. L'importante è che creda, io dico, nello sviluppo rurale e quindi di recupero dell'agricoltura, del settore agricolo e dello sviluppo rurale serio, perché questo contribuirà sicuramente nei prossimi anni a rilanciare l'economia di questa Regione, che passa, a mio avviso, passa proprio dal settore agricolo. Quindi rilanciare il settore agricolo in una certa maniera, collegandolo fortemente allo sviluppo rurale, questo può creare occupazione, dare ricambio generazionale per i giovani, dare reddito a quelle persone che rimarranno sulla terra e che faranno attività rurale e permetterà, io dico, di spostare anche un po' il flusso del turismo verso l'entroterra. Questo è molto importante, perché altrimenti vedremo uno spopolamento dei paesi più piccoli dell'entroterra verso valle. E questo sicuramente non giova a nessuno. Allora, mi trovo in compagnia di Nicolò, lo chef dell'agriturismo Cadabò. Quali sono i prodotti, diciamo, che offrite alla vostra clientela? Allora, innanzitutto, ciao a tutti. Il nostro agriturismo ha come punto di riferimento la tradizione, quindi i nostri piatti fondamentalmente sono votati a un recupero dei prodotti tipici del nostro territorio, quindi dà il coniglio in porchetta, levato in casa e fatto come una volta, la pasta viene fatta tutta a mano. Naturalmente c'è un'evoluzione in base a quello che la gente naturalmente richiede al giorno d'oggi. L'importante è non perdere la tradizione e lasciare sempre che il piatto rimanga con i gusti naturali di una volta, con un prodotto genuino e un bel senso estetico. Beh, comunque, degli ideali in linea, diciamo, col progetto originario che è l'agriturismo Cadabò. Stiamo assistendo proprio alla preparazione di un qualche prodotto tipico in compagnia di Oriana. Di che cosa si tratta? Si tratta della cicerchiata, tradizionalmente di una volta, con uovo, farina, un pizzichino di bicarbonato, come la faceva la nostra nonna. Perché, ecco. È importante recuperare le tradizioni. E' ripassata col miele, il cacao, le noci, limone, arancia, una volta. Perfetto, grazie. Dal cuore della Vallesina, dall'agriturismo Cadabò, un saluto a tutti quanti. Ringraziamo lo staff che è stato molto gentile, ovviamente vi aspetta. Dalla rubrica a spassone la Vallesina è tutto. Un saluto, arrivederci. Penso che un sogno così non ritorni mai più.